e benvenuti ragazzi su un nuovo video, oggi siamo tornati dopo millenni su una teoria di fnaf omg 100.000 likes e niente, oggi visto che le scende sono state rilasciate dei teaser di fnaf che io ovviamente sono sempre informato e me ne accorgo solo ora e nulla, andremo a parlare, cioè in realtà lo sapevo però infatti questa teoria lo sapevo però vabbè, lascio a perdere, oggi andremo a parlare di dell'animatronic, del nuovo animatronic, di uno dei nuovi animatronic che è stato confermato ovvero Montgomeritor Montgomeri di Gator sembra essere un allegatore è anche stato confermato qui nel teaser rilasciato per sbaglio dalla Funko, del calendario di FNAF in cui possiamo vedere Glamrock Freddy Montgomeri e Rocks and Wolf che tra l'altro è confermato essere la stessa che avevamo visto nel teaser di Freddy in Space 2 quindi può darsi che quel teaser non si riferiva solo a FNAF a FNAF a FNAF 58 Freddy in Space 2 ma chi lo sa ritornando alla questione di Montgomeri devo riprendere in mano questa vecchia teoria che i bambini con la maschera del minigame Happiest Day il good ending di FNAF 3 siano in cry melodies però questa teoria non è del tutto corretta molto probabilmente il bambino con la maschera verde e il bambino con la maschera blu non indicano Hedbear e Happy Frog ma indicano Montgomery Gate e un animatronic misterioso che probabilmente sarà sempre un membro della della banda di della band di FNAF 9 e il nome non è Pizza Blacks come ci ha detto il buon Scott però è così chiamato quindi per ora lo chiameremo così finché non troveremo un nome perché FNAF 2000 e nulla quindi lui ne è Montgomery ah e sono stati anche liccati i peraggi già da un po' di giorni ovvero sappiamo che saranno presenti Chica e Freddy Montgomery Gator Roxanne Wolf ovvero che abbiamo visto nel teaser sia in quello nuovo sia in quello di FNAF di FNAF 58 Freddy in Space 2 e soprattutto Ben Venni non so se ve lo ricordate ma quelli che avranno giocato a Course of Threadsburg avranno visto i video lo sapranno Venni è Venni è lei Venni è il Reluptant Follower il seguo glitch trap e ci sarà probabilmente non come solo la maschera o proprio come animatronic se il glitch trap le avrà dato un corpo ma questo ancora non lo possiamo sapere noi ma quindi ragazzi per questo video è tutto ovviamente andrò più a fondo sulla questione glitch trap Venni però ovviamente dobbiamo aspettare nuovi teaser nuove cose magari anche FNAF per le informazioni su Venni però però non sappiamo nulla non possiamo sapere nulla quindi spero che il video vi sia piaciuto se così fosse lasciate like iscrivetevi e noi ci vediamo in un video ciao ciao che cliente questo video